Non c'è altro da voi, io sono alleno, voi chi siete, voi chi siete, dove veniate, dove andate, quando tornate, quando andate, quando si arriva, quando si arriva, quando si arriva, quando si arriva, ma che ora sono, che ora sono, quando si manda, ma quando si manda, dovevo andare?